chiedono anche Totti o Del Piero? è una risposta che può essere solo soggettiva Totti o Del Piero secondo me devi di uno sappiamo il tuo pensiero no no non è vero perché io con Francesco Valdo d'accordissimo a differenza di come dite voi o come dicono io in giro ah sì perché tu pensi il calcio allora chissà no ma chiarisci questa cosa hai la possibilità non ci sono problemi ci mancherebbe Vivi o Totti o Del Piero? Totti Totti forse dico Totti alla fine ho risposto Totti per il calcio che piace a me Totti era più fantasioso secondo me quindi Del Piero era più finisher poi aveva una tecnica allucinante è dura fare un paragone tra Del Piero, Totti, Baggio cioè che c'era un paragone tra Grazie a tutti.